Questo corso per vincere l'ansia è fatto di dieci lezioni video, riassumono il mio lavoro di tanti anni, di più di 40 anni, il mio lavoro psicoterapeutico, incentrato su questo disagio. L'ansia non è una malattia cronica, ed è una malattia che si può superare molto più facilmente di quello che si pensa. L'ansia è un'opportunità per scoprire lati di noi, capacità, talenti, che spesso la vita ci ha portato a soffocare. L'ansia in questo senso è una protesta del nostro inconscio, della nostra interiorità. Io mi soffermerò con delle lezioni pratiche, con delle tecniche pratiche, su che cosa fare quando arriva l'attacco, su cosa fare durante la giornata per evitarlo. E scoprirete che sono tecniche pratiche di breve durata. Noi crediamo che l'ansia dipenda sempre da eventi che sono accaduti, da traumi, da genitori anaffettivi, da disagi come gli abbandoni, le frustrazioni, i fallimenti. E spesso ci soffermiamo per lungo tempo, più su ciò che è accaduto che non sulle cose da fare. In queste dieci lezioni video io ho riassunto le tecniche che ho ritenuto più utili e che mi hanno dimostrato negli anni del mio lavoro i migliori risultati. Buona visione. Grazie.